Quanto io mi fossi a quel tempo addentrato in tutto ciò, avendo però sempre consapevolmente davanti agli occhi la rigorosa, salda concezione formale dei miei grandi modelli sinfonici, Mozart e particolarmente Beethoven, di questo punto si rese conto l'ottimo consigliere Rochlitz quando realizzò che il ragazzo diciannovenne che aveva davanti era l'autore di quella sinfonia. Grazie